Ragazzi, c'è veramente caldo oggi, dicono che è stata la giornata più calda, comunque a parte questo, ma ditemi una cosa, ma sta storia di Lukaku che deve arrivare alla Juventus, che ha già parlato con il Chelsea, ci sarebbe un accordo tra le parti, lo stesso gioco di Lukaku, io mi ricordo di un video, di un video che ho messo di recente Sky Sport su Facebook, su Facebook, l'ho messo anche io, su Facebook, dove Lukaku diceva la Juventus, Milan, mai, 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 ma che cos'è questa? Vabbè che i giocatori, ovviamente, giocatori seri, giocatori seri, se hanno da cambiare casacca, la cambiano, ma cos'è questa storia? Sarà vero? Sarà finto? Che cosa ne pensate? Noi, bianconeri, potremmo vedere Lukaku vestire la nostra maglia, oppure no? L'idea è un pochettino che non mi piace, devo essere sincero, e a voi? Fatemelo sapere nei commenti se vi va.